Con Daniele Farchiune prepariamo oggi il classico panettone di Natale che sicuramente non mancherà nelle case dei sulmonesi e degli abruzzesi. Per il nostro panettone frutti di bosco abbiamo bisogno della farina manitoba o anche americana, del burro, lievito naturale in polvere, lo zucchero, sale, delle bacche di vaniglia, acqua tiepida intorno ai 30-32 gradi, il tuorlo e i frutti di bosco, nello specifico abbiamo messo dei ribes, delle fragole, more, lamponi e mirtillo. Per la preparazione del panettone abbiamo bisogno di due fasi, soprattutto quando si usa il lievito naturale in polvere. Una prima fase è mettere una parte della farina nell'impastatrice. Successivamente andiamo a mettere il burro che è stato reso precedentemente morbido. Il nostro lievito naturale, questo a differenza del lievito di birra, ha una lievitazione molto più lunga ma sicuramente una digeribilità maggiore. Ha dei tempi di lavorazione sicuramente più lunghi, ha bisogno di 12 ore per attivare il lievito, in questo caso il primo impasto serve proprio a quello. E successivamente altre 6 ore di lievitazione prima di infornarlo. A mano a mano andiamo ad aggiungere la nostra acqua tiepida. Ne mettiamo solo una parte inizialmente per far formare una sorta di corda. Questa corda la forma proprio questo tipo di farina, molto forte viene chiamata la farina manitoba, che serve proprio per far formare una corda. Questa corda viene data dal glutine, più è forte la farina e più è presente il glutine nella farina. In questo caso questa farina è molto molto ricca di glutine e quindi si può avere una maglia glutinica molto forte, proprio di quello a cui ha bisogno il nostro panettone. Molto importante per il panettone sicuramente la farina ma anche molto importante i nostri grassi che utilizziamo. Nel nostro specifico, in questo caso, se ci spostiamo, abbiamo usato del burro. Normalmente si possono usare tantissimi tipi di grasso, come la margarina, lo strutto, tantissimi tipi di grasso. Questo sicuramente è il più nobile. È anche il più costoso, il più difficile a lavorare perché ha delle temperature di lavorazione molto basse. Per il nostro panettone invece servono delle temperature di lavorazione molto alte, quindi rischiamo di sciogliere questo burro. Vediamo che intanto incomincia a impastare. A mano a mano andiamo ad aggiungere l'acqua. A differenza di questo tipo di panettone, il panettone, in questo caso a lievitazione naturale, ha un procedimento abbastanza lungo. Si comincia a impastare di solito nelle ore serali, in modo tale che l'impasto, dopo 12 ore di lievitazione, viene preso e viene rimpastato con il resto degli ingredienti. Poi viene messo un'altro 6 ore a lievitare e dopo di che può essere infornato. Per il lievito di birra invece è sufficiente qualche ora di lievitazione. Viene fatto sempre il primo impasto, gli viene dato a tempo 2-3 ore di lievitazione, viene rimpastato, tempo un'ora di lievitazione e può essere infornato. Questa lievitazione è molto veloce, naturalmente ci dà il nostro panettone che risulta molto pesante. A differenza di questo tipo di panettone che è molto leggero, rischiamo anche di mangiarci un chilo di panettone da sole. A differenza del panettone industriale che viene comprato, che risulta molto pesante e delle volte anche molto acido, che è dovuto proprio dal fatto del tipo di lievito che ha al suo interno. Finiamo a mettere l'acqua. Allora, una volta che il nostro impasto si comincia a staccare dalle pareti dell'impastatrice, vuol dire che l'impasto è pronto. Andiamo a fermare l'impastatrice. Vedete? Si è formata come una corda, proprio si può prendere. Adesso andiamo a spezzare questo impasto. Andiamo a mettere dei recipienti abbastanza grandi. Il nostro panettone successivamente viene messo a lievitare per 12 ore, a temperatura di 25-26 gradi. Mettiamo in camera di lievitazione. Adesso qual è la seconda fase, Daniel? La seconda fase per il nostro panettone è di concludere l'impasto. Come possiamo vedere, il nostro primo impasto l'abbiamo messo a lievitare durante le ore notturne e ha quadruplicato il suo volume. Per quante ore si mette a lievitare? Su 12 ore si mette a lievitare. Una volta che 10-12 ore, dipende sempre dalla temperatura che ha il lievito al suo interno, e quando il nostro lievito è pronto vediamo che ha quadruplicato il suo volume ed è diventato piatto. Successivamente questo lievito viene impastato con il resto degli ingredienti. In questo caso stiamo facendo un panettone frutti di bosco. Come possiamo vedere, nello specifico qua abbiamo messo dei ribes, dei mirtilli, fragole, more, lamponi e more e lamponi. Andiamo ad impastare il nostro panettone. Quindi ora si versa l'impasto, lievito nell'impastatrice. Va bene, allora abbiamo inserito completamente l'impasto nell'impastatrice. Ora dovremmo aggiungere burro. Mettiamo il burro che è stato precedentemente ammorbidito. Ne aggiungiamo solo un tre quarti del totale. Mettiamo il burro. Quindi bisogna poi lasciare una parte di burro nel contenitore. Alla fine dell'impasto. Si lavora come vedete in due step. Adesso vedo che prende la farina. Nella sequenza lo zucchero. E resta l'uovo. Si, l'uovo lo mettiamo mannato. Questo poi si verrà dopo. Facciamo partire l'impastatrice. Ora vediamo che l'impastatrice lavora con la sua tecnica. Una volta che l'impasto ha quasi preso tutta la farina andiamo ad aggiungere a mano a mano il tuorlo. Quanto tempo impiega l'impastatrice per lavorare l'impasto? Circa un quarto d'ora l'impasto è finito. Naturalmente una cosa molto importante è che è un impasto che deve lavorare molto. Ce ne accorgiamo quando è pronto, quando si è formata una corda. Quando il panettone... È un impasto molto appiccicoso. Quando tende ad appiccicare un po' meno vuol dire che il nostro panettone è pronto. Quindi deve essere un po' più denso, diciamo, l'impasto. Si, si. Adesso andiamo ad aggiungere a mano a mano il tuorlo. Qui c'è solo il tuorlo d'uovo ma si può fare anche... Quindi prima che l'impastatrice termini il suo lavoro si aggiunge il tuorlo d'uovo. Dopo quanto tempo più o meno? Ma non c'è un tempo preciso, dipende anche dalla quantità di impasto. Se è un impasto molto molto grande c'è sicuramente bisogno di più tempo. Se l'impasto è più piccolo naturalmente ha una velocità di impasto più maggiore. E l'uovo poi contribuisce a costituire una corda, quindi ad adezzare ancora di più l'impasto. Nel frattempo possiamo andare ad aprire le nostre bacche di vaniglia. Sappiamo bene che nel panettone tradizionale poi la vaniglia non manca mai. Queste sono bacche di vaniglia che a differenza della vanillina o degli altri aromi è una cosa naturale. Sicuramente molto più costosa però diciamo che... Non è economico ma è un prodotto di qualità. È un prodotto di qualità sicuramente. Si sente, alla fine il prodotto esce, tutto il suo aroma esce. Adesso dunque abbiamo la restante parte del tuorlo d'uovo che in quale momento si inserirà? Appena è pronto, ecco vediamo, appena si è preso tutto il tuorlo andiamo ad aggiungere un'altra parte di tuorlo. E questo è il tocco finale diciamo all'impasto? Sì, la andiamo ad aggiungere in due riprese, sempre per dargli tempo che si prenda il suo... Beh, intanto noi facciamo un applauso alle nostre nonne e a coloro che lavoravano e realizzavano il panettone con le mani, che sicuramente impiegavano più tempo e più fatica senza l'ausilio delle macchine. Sicuramente questa operazione si può fare quando stiamo parlando di una quantità piccola di panettone. Beh, certo, non avranno impastato la nostra quantità, però hanno lavorato nel metodo antico. Bene, allora vediamo che adesso l'uovo completa questo processo. Questo tipo di macchina, a differenza di quest'altro tipo di macchina, ha proprio la funzione di riprodurre a tutti gli effetti un impasto a mano. Queste rappresentano come se fossero due braccia, infatti questa macchina viene chiamata impastatrice a braccia tuffanti, che riproduce esattamente la coppia speculare come se stesse impastando a mano. La mano dell'uomo si sostituisce? Questa macchina sempre può essere utilizzata per impastare dei lievitati, però a differenza di quest'altra tende a riscaldare, in questo caso non ne abbiamo bisogno, però in altri impasti c'è bisogno di mantenere una temperatura fredda per non far partire la lievitazione. Questa macchina non è proprio adatta perché tende a surriscaldare l'impasto e ci fa partire la lievitazione già mentre stiamo impastando. Quest'altra invece mantiene la temperatura che ha in origine. La cosa importante del panettone è che una volta partita la lievitazione a 26 gradi, il nostro impasto non può scendere più della temperatura di 20 gradi, perché sennò ci crea dei problemi nella lievitazione prima dell'infornata. In questo caso abbiamo bisogno di 5-6 ore di lievitazione. Nel caso in cui la temperatura ci scende di intorno ai 20 gradi, la nostra lievitazione si allunga, si può allungare anche di 8-9 ore. Quindi diciamo che per preparare questa quantità di panettone si piega poi anche una giornata, più di una giornata. Più di una giornata, perciò cerchiamo di impastarne quando è più possibile in un giorno, così da toglierci quanti più panettoni. Non di lazionarsi il lavoro, ma di concentrare la molle di lavoro. Anche perché il panettone, a differenza di come si può pensare, per assaporare il nostro panettone al 100% con il suo aroma bisogna farlo riposare almeno con la ventina di giorni. Questo parliamo del panettone artigianale. Il panettone industriale è tutto un altro discorso, là si lavora per 365 giorni l'anno. I tempi di produzione possono... Questo panettone una volta sfornato questa sera sicuramente non avrà lo stesso sapore che avrà fra 20 giorni. Fra 20 giorni avrà assorbito, nel suo impasto avrà assorbito tutta l'aroma della vaniglia, tutto il sapore dei frutti di bosco, in questo caso, anche nel classico dell'uvetta o di qualsiasi cosa andiamo a mettere dentro. Ha sempre bisogno di quella 15-20 giorni per insaporirsi. La vaniglia si sentirà però non in modo così forte forse. Questi sono 5 bacchi di vaniglia, ha un sapore molto dolce, non è un sapore chimico che siamo abituati con la vanillina. In questo caso ci sono 5 bacche di vaniglia su 25 kg di impasto, quindi praticamente è una bacca... Si disperde in questa massa, diciamo. Esattamente. Andiamo ad aggiungere il restante torno. Ebbene, quindi questo dovrebbe essere l'ultimo step. L'ultimo step, sì. Solitamente, per quello tradizionale, noi mettiamo anche, all'aggiunta della vaniglia, mettiamo anche l'aroma della pasta d'arancia, che con l'uvetta e il cubetto di arancia si va a sposare molto bene e va a aromatizzare l'impasto con un profumo di scorza d'arancia. Cioè, chi poi mette anche la scorza di limone, poi ognuno lo fa in modo... In questo caso parliamo di frutti di bosco, quindi abbiamo escluso l'arancia e il limone che può togliere il sapore del frutto di bosco. Essendo il frutto di bosco un frutto molto delicato, che ha un sapore molto delicato, vogliamo far sentire al pieno il loro sapore. Se possiamo aprire una piccola parentesi per il sale, il sale viene... Io lo consiglio in quasi tutte le applicazioni nel dolce, a differenza di come si può pensare, perché il sale ha un compito molto speciale, che è quello di esaltare i sapori. Il sale è per eccellenza uno dei più grandi esaltatori di sapore. Questo anche nella simbologia, no? Quindi oltre che nella cucina, sicuramente. Ci siamo quasi. A fine impasto andiamo ad aggiungere il nostro quarto di burro che abbiamo lasciato precedentemente, che l'abbiamo finito a sciogliere completamente, l'abbiamo ridotto quasi a olio. E se vediamo che è molto diverso. Questo ci servirà per farlo definitivamente staccare dall'impastatrice. Poi lo andremo a vedere nel dettaglio. Il burro ha questa funzione di, diciamo, discostare l'impasto, no? Successivamente la funzione del burro la vedremo anche quando andremo a pezzare i nostri panettoni, che ci servirà per lavorarlo, perché questo impasto, come dicevo prima, tende ad essere molto appiccicoso. Il nostro burro o l'olio, noi nel caso stiamo utilizzando del burro, ci servirà proprio per non farci appiccicare questo panettone, per lavorarlo meglio. Ok, il nostro panettone è pronto. Vediamo che assume una struttura liscia. Ormai, diciamo, si è composto. Quasi completamente staccato dalle pareti. E quindi ora possiamo spegnere la macchina e aggiungere i nostri frutti di bosco. Eh sì, che sono i protagonisti di questa. E quindi ora si andranno proprio a intersecare con l'impasto per l'omogeneità. Questi sono dei frutti di bosco semicanditi, a differenza di quelli freschi, questi essendo che lo stiamo utilizzando in un prodotto che normalmente deve avere una lunga conservazione, quelli freschi tendono a sviluppare dopo una settimana, dieci giorni, tendono a sviluppare le classiche muffe o comunque a rovinarsi. Questo tipo di frutti di bosco invece è più adatto per questo tipo di lavorazione, che deve durare nel tempo, naturalmente. Solo che a differenza di quelli secchi, come ad esempio si trova l'uvetta o un tant'altro tipo di frutta secca, questo frutto di bosco ci fa risperchiare quello che è di più il frutto di bosco originale, che non siamo abituati a mangiarlo in maniera come un frutto secco. Questo rimane sempre fresco al suo interno, però... Vediamo come l'impiego dei prodotti genuini è fondamentale anche per la conservazione, no? Il prodotto. Sicuramente, dobbiamo sempre pensare che una persona lo può acquistare a Natale, ma molte volte lo può anche tenere fino alla Befano, anche oltre la Befano, quindi dobbiamo dare la possibilità al cliente di... Sì, perché poi magari secondo i gusti si venga a dilazionare il prodotto oppure se ne mangia una parte. Non c'è nessun tipo di conservante, è proprio il tipo di impasto stesso che tende a durare. Questo è uno dei impasti più vulnerabili dei gusti che facciamo noi in pasticceria, di fatti è uno degli ultimi gusti che stiamo impastando, mentre gli altri gusti con la frutta secca oppure il cioccolato li abbiamo anche impastati precedentemente senza problemi. Questo, siccome tende ad assumere questo tipo di problema nel tempo, cerchiamo di impastarlo quando più vicino possibile al Natale. Allora, diciamo, abbiamo terminato adesso, quindi l'impasto dall'impastatrice viene inserito di nuovo nelle ciotole. Ora abbiamo anche i frutti di bosco che si sono, diciamo, incastrati. Vediamo come il nostro Daniele fa anche più fatica a rimuovere l'impasto perché è diventato più denso e acquisito, diciamo, più forza con il lavoro dell'impastatrice, ma soprattutto con gli ingredienti che man mano sono stati inseriti nel processo di lavorazione, come abbiamo visto. Ora, cosa succederà? Daniele bisogna sicuramente distribuirlo. a una mezz'oretta, a un 40 minuti, sempre alla temperatura di una trentina di gradi, viene messo, si dice in gergo tecnico, a puntare, a riposare, in modo tale che questa corda si allenti un attimino. Perché ha lavorato tanto, quindi deve riposare. Ha lavorato tanto, deve un attimo riposare, e successivamente viene preso e viene fatta una serie di lavorazioni, viene spezzato, in base alla quantità di panettone che vogliamo fare. Se vogliamo fare il panettone da chilo, è un chilo e mezzo, da 7,50 e ogni tipo di panettone. Mentre ora auguriamo buon riposo al nostro panettone, almeno per 40 minuti. Sì, una mezz'oretta, 40 minuti ha bisogno. Ce ne accorgiamo quando ha perso un po' di questa elasticità. Bene, allora siamo alle fasi finali della nostra lavorazione del panettone. Adesso manca la fase della lievitazione e quella del forno, giusto? Quindi diciamo che ci siamo, Daniele. Sì, andiamo a riprendere il nostro impasto dentro alla camera di lievitazione. Una volta che si è riposato, vediamo come troviamo il nostro... Bene. Poi viene fatto questo tipo di lavoro. Una volta pesato il nostro impasto, viene arrotolato. Quindi anche si assegna una forma, diciamo, all'impasto. Esattamente, sì. Si deve formare come una pellicina sopra che non attacca. Questo viene ripetuto per tutti i panettoni. Poi in questo modo vengono infornati. Prima dell'infornata c'è la lievitazione. Un attimo, un riposo di... ma roba di 5 minuti. Ok, quindi c'è un altro step da seguire, sì. Prima di entrare nel forno, quindi... Una volta che hanno riposato 10 minuti, una decina di minuti, sopra il panettone possiamo vedere che si è formato come una pelle. Una pelle completamente... Va ripreso il nostro panettone. Va, è arrotolato successivamente. E una volta, se possiamo inquadrare da vicino, una volta che comincia a sbiancare, vediamo che si schiarisce. E sì, vediamo che cambia colore, quindi proprio molto bianco, eh. Quindi è necessario questo schiarimento. Bene, allora adesso l'impasto che, diciamo, è pronto per la lievitazione, no, che ha questo colore più bianco, viene inserito dentro un pirottino, per necessario poi... anche alla cottura. Sì. Questa operazione va ripetuta, naturalmente, per tutti i panettoni. Sì. Vedete com'è grande il pirottino rispetto al panettone? Un odore che forse si dilaterà anche, quindi lo potrà contenere. Questo vi far capire quanto volume poi assumerà il nostro panettone per riempire completamente questo pirottino e uscire anche fuori, quindi quadruplicherà quasi il suo volume. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, dopo un giorno, diciamo, trascorsi insieme, abbiamo concluso la lavorazione, la produzione di questo panettone, le ultime fasi, le ho viste prima del risultato finale, è stato ricoperto di mandorla e anche di zucchero, e adesso è la fase dell'asciugamento, raffreddamento. Sì, sta raffreddando a testa in giù perché è un imbasto molto soffice, e quindi tende a riabbassarsi, cioè lo mettiamo a raffreddare una notte a testa in giù. e se possiamo vedere, questo adesso è caldo, appena uscito abbiamo già il panettone pronto, questo già si è raffreddato, se lo possiamo vedere in sezione. Quindi vediamo i frutti di bosco che sono rimasti ingastrati. Allora, tutto questo è avvenuto nella pasticceria Dolcidea e ogni fase della produzione è stata rispettata perché è impiegata ovviamente la competenza, ma anche i prodotti genuini locali. Margherita è la titolare, hai assistito a questo processo, come è andata? È andata molto bene, lo vediamo dall'aria che c'è dentro il panettone perché comunque ci sono delle bolle molto grandi e quindi segno che è molto soffice, molto areato, il risultato quindi che per noi è soddisfacente. Sicuramente anche chi può andare ad assaggiare, a degustare, sarà soddisfatto. Sì, anche perché quello ai frutti di bosco è un ritorno perché l'abbiamo fatto l'anno scorso col primo Natale, ce l'hanno richiesto a Pasqua, è diventato un po' il fiore all'occhiello della pasticceria perciò abbiamo voluto presentarvelo. Ora, da poco se ne è presente sul territorio, ma le richieste ci sono. Sì, sicuramente, la gente ha apprezzato tanto la qualità delle materie prime soprattutto di questi prodotti perché sono prodotti che comunque sono molto genuini, molto sani e quindi probabilmente lo hanno recepito e ci hanno premiato per questo. Ora, Margherita, grazie, che ci ha permesso di entrare nel vostro laboratorio, di far conoscere ai nostri telespettatori il panettone classico del Natale ai frutti di bosco. Ovviamente grazie al nostro amico Daniele per la pazienza e la costanza con cui hai lavorato. Grazie a voi. E il nostro panettone è pronto. Buon appetito.